Il meglio del calcio mondiale inscena ieri sera il Globe Saucer Awards di Dubai, la dodicesima edizione del premio che chiude questo 2020, difficile anche per il calcio. Una cerimonia di premiazione nel ricordo di due leggende del calcio scomparsi di recente, Diego Armando Maradona e Paolo Rossi. Giustamente omaggiato a dovere l'anno trionfale del Bayern Monaco, l'attaccante dei bavaresi Robert Lewandowski ha avuto il titolo di giocatore dell'anno. Il tecnico Hans-Dieter Flick, quello di miglior tecnico 2020, la squadra che ha vinto Champions League, campionato e Coppa nazionale, Supercoppa europea e di Germania, è stata designata la migliore. Non riesce l'impresa Giampiero Gasperini, inserito nel trio per il miglior allenatore dell'anno, il tecnico dell'Atalanta viene battuto insieme al collega del Liverpool Club. L'Italia festeggia in parte con lo juventino Cristiano Ronaldo che ha superato il grande rivale Leo Messi e Mohamed Salah nella graduatoria del premio migliore del secolo 2001-2020, uno dei tanti messi in bacheca dall'asso portoghese. Sono orgoglioso di questi traguardi, ma senza grandi compagni, club e allenatori non sarebbe stato possibile. Su quest'anno orribile per tutti, CR7 commenta con un velo di tristezza, giocare in stati vuoti è noioso, rispettiamo tutti i protocolli, ma sinceramente questo è un altro sport, lo faccio perché è la mia passione, per dovere professionale, ma non mi piace giocare in queste condizioni. Il premio di miglior agente del secolo è andato al portoghese Jorges Mendes, agente di Ronaldo, che ha battuto Mino Raiola e Giovanni Branchini. Colleziona diversi premi, la Spagna con il Real Madrid, designato club del secolo, e Josef Guardiola, che è stato scelto come coach of the century, ma è stata premiata anche la carriera dell'ex portiere Iker Casillas e del difensore del Barcellona e del nazionale Gerard Piqué.